però quando stiamo in questi posti così non avete mai fretta di scappare perché poi quando andate a casa state dentro a quattro muri di fronte a un televisore e con la moglie o col marito che vi rompono i coglioni socializzare mangiare l'erba fumare l'agonismo sta bene con la federazione ciclistica italiana noi passeggiamo mangiamo audio o 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Audio jungle Grazie per la visione! Audio jungle 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 Audio ethnicity Audio jungle Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, che fantasticume. Mamma mia, bellissimo, lo rifacciamo? Portiamo il furgone qua e risaliamo. Mamma mia, che fluo. Portiamo il furgone qua e risaliamo.